Salve a tutti, oggi volevo recensire, è vero, un liquido marca The Vaping Gentleman Club che si chiama Breva descritto come Kentucky più pane speziato sarebbe in francese, una cosa del genere ma io sono ignorante e non so cosa voglia dire nello specifico e allora, devo dare, insomma, personalmente sono molto contento di certi tipi di paika jeng perché, in parte la boccetta, è vero, molto signorina, questo è l'aroma da diluire, è vero la boccetta contiene 11 ml di aroma e io ho fatto il liquido all'11%, la diluizione consigliata è il 10%, l'ho fatto all'11% perché così ci ho messo tutta la boccetta forse l'ho fatto anche a una diluizione maggiore, non mi ricordo comunque, l'avrò fatto tra l'11% e il 13%, una cosa del genere questo aroma ed altri due sono un carissimo omaggio di un mio carissimo amico nordafricano anche lui, ma che sta all'estero, vicino a Milano che si chiama Lazzaretto Brischetto grazie Lazzaretto per questi graditissimi omaggi devo dire quindi appunto che il packaging è qualcosa di bellissimo, signorile complimenti, signor, non me lo ricordo mai, scolari signor scolari, complimenti perché packaging è veramente fatto bene cari case produttrici di liquidi, lasciamo perdere gli americani che fanno solo packaging per bimmi minchie cari case produttrici di liquidi, prendete esempio questo è un packaging bello, signorile da ganzignore, è vero quindi c'è una boccetta, molto bella dentro la confezione c'è l'anelletto di plastica per evitare che si rompa il vetro ora, il nome americano lo sapete voi, io me ne sto fottendo del nome americano c'è persino una pipetta pipetta graduata da un millilitro e mezzo per dosare l'aroma che ci serve eccetera eccetera questo è il packaging da signori è vero non come quella minchiata di packaging tipo il barista quello agghiacciato all'anguria che ti danno il bicchierazzo con il tappo e la cannuccia cose americane voi sapete che gli americani si bevono il caffè lungo sono questi beveroni, ma facciamo mettere tornando al liquido l'ho sbappato dopo un mese e mezzo di maturazione tra un mese e mezzo e due mesi, adesso non mi ricordo di preciso è molto simpatico io personalmente il kentaki non ce lo sento sento un buonissimo odore speziato è una leggera nota tabaccosa dietro il tutto è molto buono non è un tabacco che mi fa impazzire non è un liquido ecco che mi fa impazzire però è molto simpatico molto simpatico e il packaging è veramente una cosa una sciccheria è veramente una sciccheria è vero bravi signor gentleman vaping scolari bravi grazie lazzaretto però mi ero fatto un'aspettativa no molto scusate whatsapp molto più aspettativa e quindi a malincuore devo dire vergogna grazie a tutti